Il governo ha approvato un piano per la conservazione del lupo, che purtroppo invece permette l'abbattimento in deroga dei lupi. Moltissime associazioni ambientaliste e animaliste si sono mosse per contrastare questo piano, ci sono mosse anche alcune regioni e la conferenza Stato-Regioni del 2 di febbraio in cui doveva essere discusso questo piano è stata rinviata. Anche Regione Lombardia si era impegnata con un piano specifico a contrastare il bracconaggio di lupi e a favorire un maggior rapporto tra lupi ed esseri umani. Per questo chiediamo che in conferenza Stato-Regioni la nostra Regione Lombardia e il Presidente Maroni si impegni a contrastare in maniera molto decisa e molto pesante il piano nazionale per l'abbattimento dei lupi voluto da questo governo.